Finalmente, questa stagione incredula, schifosissima, da vomitare per la Juve, piena di penalizzazioni, amore piena di penalizzazioni, finalmente la Serie A, ci auguro una buona estate. È finito! Ciao raga, sono Pietro e ben ritornati in questo video. Finalmente il campionato è giunto al termine, finalmente il Napoli torna campione d'Italia dopo 33 anni, la Juve fa letteralmente schifo, amore tra le penalizzazioni, non andiamo neanche in Europa League, non ne parliamo proprio, andiamo in Conference League. Quindi peggio, ecco perché io all'inizio del video questa stagione per la Juve l'ho definita da schifo, da vomito, da... Cioè, tu vedi la Juve, Serie A 22-23, vai direttamente al bagno e corri a vomitare. Già io te lo dico, uno juventino corre direttamente al bagno a vedere neanche una mezza partita della Juventus in questa Serie A e inizia già a vomitare. Soprattutto per le sconfitte o per i pareggi o per eccetera 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 eccetera. A parte per le vittorie. Finalmente è finita. Lazio in Champions League. Napoli già qualificato. Cioè, Milan... Lazio, Milan, Inter e Napoli, che ha vinto lo scudetto, qualificate alla Champions. Roma, Atalanta, in Europa League e la Juve in la mia squadra. Questa Juve è in Conference League. Ma non c'era mai vista una cosa del genere. Juve in Conference League. Vabbè. Poi abbiamo fatto un acquisto incredibile, ragazzi. Cioè, abbiamo fatto degli acquisti incredibili, sicuramente, di Maria, che si pensa che lascia già la Serie A. Quindi andiamo proprio bene. Ibraimovic, che poco fa ha lasciato il Milan. Forse si ritira pure dal calcio. Non si sa se accetta, se rifiuta, se si ritira dal calcio, se accetta o rifiuta l'offerta del Monza. Niente. Ormai il 2023 è l'anno degli A.D. Degli A.D. Di Maria, sicuramente. Rabiot, forse, è Ibraimovic. Ah! Che tra l'altro, raga, non so... Io, scusate se le settimane scorse non vi ho aggiornati, ma... Ne ho sentito parlare. Arbitro Taylor, quello di Roma-Siviglia, è stato aggredito. Io ne ho sentito parlare e sono rimasto scioccato. Comunque, è una settimana da strage, raga. Perché io ve l'ho detto. Prima Ibraimovic se ne va dal Milan. Poi Di Maria non si sa se firma con la Juve, se forse non è ancora sicuro sul futuro. Stesso per Rabiot. Arbitro Taylor, aggredito. Siviglia vince l'Europa League contro la Roma. Inter in finale di Champions dopo 13 anni. Napoli, campione d'Italia dopo 33 anni. Messi, Sergio Ramos, adios al PSG. Ma che ci deve mancare? Cosa deve mancare? Che l'anno prossimo retrocediamo? Manca solo quello. Vabbè raga, finalmente l'estate è arrivata. Poco fa, da so, me l'hanno pure augurata l'estate. Io ho risposto, grazie, arrivederci. Ci vediamo l'anno prossimo. Speriamo di non vedere più una Juve così. Io ho detto veramente così, sto scherzando. Però, siamo stati scandalosi questa stagione. Ci hanno solamente penalizzati. L'unica cosa che ho parlato maggiormente della Juve è la penalizzazione. E prima, e prima si parlava di nuovi punti, poi erano 15, poi 10. Ma ci mancano solamente 20. E andiamo in Serie B. Ci manca solo quello. Ovviamente scherzo, eh. E vabbè raga. Speriamo che la prossima stagione andrà meglio. Perché io, una Juve così, non la voglio più vedere. Non l'ho mai vista. Vabbè che quest'anno mi sono appassionato al calcio, ma non l'ho mai vista così nella mia storia. Perché almeno da quando sono andato io, la Juve ha sempre vinto Scudetti. Quindi io non l'ho mai vista così, così, adesso, come quest'anno. Comunque, dato che ormai la stagione, la Serie A, l'estate sta per arrivare alle porte e la Serie A ormai è finita. Perché finiva oggi, quindi ormai è finita la Serie A. Bisogna dare, ogni squadra che si tifosi, infatti se si tifosi di Juve, Milan, Inter, Napoli, Lazio, Roma, eccetera. Si dà il voto alla stagione. Io, sapete come do il mio voto? 5 e mezzo. Perché siamo stati scandalosi. Cioè, può andarci pure un 6, 5 e mezzo o 6. Però è meglio 5 e mezzo perché, io ve l'ho detto, solo penalizzazioni. Andiamo in conferenza l'anno prossimo. Emo non so che succede, più e chi meno, più e chi meno, più e chi meno. Non lo so, fra penalizzazioni, fra quello, fra questo, non ce la faccio più. Quindi, 5 e mezzo o 6. Anzi, 5 e mezzo. Vabbè. Raga, spero che questo video sfogo, praticamente video sfogo, vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Se volete un episodio l'anno prossimo, magari non l'anno prossimo del mio canale, ma voglio dire in estate, se volete che io vi porti dei video belli, carini, eccetera, io ve li porterò sicuramente. E niente, vabbè raga, quindi ci vediamo magari quest'estate. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Lasciate un bel like al video per supportarmi. E sempre se i commenti non sono disattivati, scrivete qua un commento, o bello quello che vadete. E niente, dal vostro Pietro è tutto. Serie A, all'anno prossimo ci vediamo, almeno con Pietro, in estate. Ciao.